I palloncini bianchi hanno spiccato il volo per ricordare la piccola Laura. Così è stata salutata questa mattina Laura Condrea, un angelo di appena tre anni volato in cielo, come hanno ricordato gli amici presenti al funerale, prima vittima di Covid in Veneto in età pediatrica. La bimba di origine moldava è morta alla notte di Natale all'ospedale di Padova ed era affetta da una grave malattia degenerativa. I funerali sono stati ospitati nella chiesa di Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia. La famiglia per il funerale ha scelto il giorno del Natale Ortodosso, che si celebra proprio oggi, proprio per portare in questo momento di grande dolore, portato sempre e comunque con dignità esempio di attaccamento alla famiglia, un segno di speranza. Le limitazioni imposte dal Covid non hanno impedito in molti modi una partecipazione molto sentita, fino al piazzale esterno della chiesa. Di grande dolore ha parlato padre Dimitri nell'Omeria, facendo poi riferimento al senso di comunità moldava per riuscire a stare uniti e essere vicini alla famiglia in questo momento. Una tragedia che ha colpito non solo la comunità moldava di Venezia, ma tutta l'isola, che in tanti modi ha cercato di far sentire in queste ore la sua vicinanza. Dopo la celebrazione, il piccolo feretro in una vara bianca è stato accompagnato al cimitero di San Nicolò per la sepoltura. Prosegue intanto la raccolta fondi promossa in forma anonima e intitolata Reali di Laura, che continuerà fino a lunedì 10 gennaio per portare un segno di vicinanza concreta alla famiglia.